Un'altra giornata nera sul fronte dei contagi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 170 nuovi positivi al Covid-19 e si è registrata anche un'altra vittima che ha fatto salire il numero dei decessi a 311. Nell'isola adesso gli attuali contagiati sono 2866 e continuano ad aumentare anche i ricoveri. Sono 301 le persone in ospedale, 19 delle quali ricoverate in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 2546 contagiati, mentre sono 90 i guariti. Buone notizie in tal senso sono arrivate da Menfi, dove sono guarite 4 delle 5 persone che erano state contagiate dal Covid-19 nelle ultime settimane. La comunicazione dell'avvenuta guarigione a seguito dei due tamponi di verifica è arrivata in mattinata dall'aspedia grigento. Si tratta dell'intero nucleo familiare che era rientrato a Menfi dalla Romania. Resta positiva invece la signora ultra novantenne che è ancora ricoverata in una struttura ospedaliera fuori provincia. La notizia della guarigione di 4 dei 5 contagiati, ha dichiarato il sindaco Marilena Moceri, non deve farci abbassare la guardia perché il virus è ancora tra noi, può colpire chiunque e il rischio è ancora elevato. Il sindaco di Menfi ha rinnovato l'appello alla prudenza e rispetto delle regole sull'utilizzo della mascherina, sul distanziamento e sul divieto di assembramenti. Nessuna novità invece sul fronte guarigioni è ancora arrivata a Sciacca, ad eccezione dei due giovani che ad agosto erano rientrati dalle vacanze in Croazia e a Malta e nonostante i primi contagi di quella che viene considerata la seconda ondata risalgano ormai ai primi di settembre. Sono 38 gli attuali positivi dopo i due nuovi casi registrati questa mattina in città. Si tratta di un anziano di 80 anni e di un giovane di 16 anni, quest'ultimo figlio di un soggetto risultato positivo qualche giorno fa e contagio avvenuto pertanto in questo caso in ambito familiare. Continua dunque a crescere il numero dei contagiati a Sciacca arrivati a 40 tenendo conto dei due decessi. I contagi registrati nella giornata di ieri per altro hanno fatto salire a 3 il numero di medici positivi al coronavirus in città. Dopo il medico di base di 60 anni del quale si era presa la positività domenica scorsa, ieri altri due suoi colleghi più giovani sono risultati affetti da Covid. Si tratta di due trentenni, uno il cui contagio pare sia legato proprio al medico di base, l'altro invece sarebbe titolare di uno studio privato. L'aspedia Grigento in collaborazione con i diretti interessati sta risalendo a tutti i loro contatti per fissare quarantena obbligatoria e tamponi di controllo. Intanto nel pomeriggio il senatore Saccenze Rino Marinello è intervenuto per evidenziare di avere già fatto questa mattina il tampone dopo che è esploso il caso dei due colleghi del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle al Senato che sono risultati positivi al Covid-19. Questa mattina, aggiunto il parlamentare Saccenze, siamo stati avvertiti che erano sospesi i lavori di commissione e i lavori in aula e che tutti avremmo dovuto sottoporci al tampone naso faringeo. I risultati si attendono nei prossimi giorni ma il senatore Pentastellato Saccenze ha voluto rassicurare che sta bene e che non ha avuto contatti con i due colleghi risultati contagiati perché non c'erano stati lavori d'aula ma solo nelle commissioni. Dall'inizio della pandemia, ha concluso Rino Marinello, ho effettuato due volte il tampone e ripetutamente anche il test sierologico con esito negativo.